Dove stiamo andando oggi? A Piero, ancora. Ah sì, se che mi chiamo signora? Sì, non c'è il cacchio di Piero. E siccome che ho finito di sistemare il rimorchio questa mattina, l'unica cosa che manca è il collegamento. Se non ti chiamo io ti butto fuori al finestrino. L'unica cosa che manca è l'attacco a spina della corrente sul cot. Perché? Perché mi manca un attresso che fa i busi sul legno. Carottatrice per legno. Non so se esiste carottatrice per legno. Buono, sono troppo ignorante su queste materie qua. Comunque, tutto il resto è tutto a posto. Ho fatto la porta ad Adrio. Ho fissato con la corda. Però sì, bisogna mettere i due ganci. Non ho anche qui, naturalmente. Non voglio spendere per niente. Perché questo mese qua ho una spesa grossa per cavare via terra dal giardino. Se questo uomo viene... Eccola. Eccola. Mi ha detto che ho messo sul volante. Sul clacso. Mi ha detto che viene... Ho pago in due volte. Invece non viene proprio. Per cui... Mi scoccia. Perché sì. Non se è pulito il giardino. Mi tocca diventare armata con i cani. Portarli in mezzo ai campi. Va bene che ne piace. Diventa amati. Però sì. Preferirei a casa. Insomma, aver pulito. Sì. Con una mese ideuccia. Mi piacerebbe fare un bel barbecue grande. Un forno. Del tipo di pizza. No barbecue. Non mi piace il barbecue. Il forno di pizza. In modo che ti cosini tutto. Anche torte salate. E che roba là. Insomma. Un po' di tutto. Ti metti dentro il pirex. E ti può cuocere veramente tutto sul forno. A parte la pizza. Ecco. E il pane. Che meno posso mangiare. Però senza glutine. Trovando qualche farina. Si può dare anche a che fare. Eh. Va bene. Insomma. Anche oggi pietre. Anche ne ha tantissime. E sta signora mia. Toggo tutto. È gratis. Basta. Tutto qua. Vi auguro una buona giornata. La nonna sta bene. Stamattina. Ha fatto saltare a casa. A corrente. L'elettricità. Non so come che ha fatto. Ha messo dentro una spina. Tu. Saltà tutta a casa. Boh. Eh. Dopo. C'è ma Dennis. Mi ha detto. Che c'era un altro contatore. Da tirare su. Solo al contatore. Eh. Sono da sola. Non lo so. Adesso. Mi sto organizzando. Comparare una roba nuova. Oggi. Che non sapevo. Basta. Eh. Vado avanti. Lavorare. Anche oggi. Su. Esopiere. Vi auguro una buona giornata. Qua fa freddo. Che sei 5 gradi. Ma c'è il sole. Grazie. Che mi adoro. Che mi bacerà tutto il giorno. Anche oggi. Ciao. 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 Grazie a tutti.